Allora, dopo la figura di merda imposta al primo livello, siamo ritornati al secondo livello. Come vedete abbiamo molti partecipanti degni di noti e illustri. Ribadisco lo stesso concetto di prima. Abbiamo Cesare 920, che è quello che voleva far mercenare un record. Ma se lo posso sognare, infatti chiama l'aiuto per invalido. McRae, mi dai una mano e secondo te io sto a prendere il Platinum Devil McRae e te ne vengo a dare una mano a te. Ma da porro sfigato quale sei, ma fai fuori dai coglioni. Poi abbiamo, sa buono che ce l'ho pure per te, abbiamo Knowen, ma abbiamo Valkyrie 88, che è un altro sfigato, l'unico uomo che con la sorella, invece di passasse un piatto di pasta, un dolce, il gatto, no, si passa l'auricolare. Infatti io dico sempre, ma una scopata non sarebbe meglio, Dio sanno, è una bella scopata e te passa la paura. Ma poi, l'ultimo per eccellenza, l'ultimo per eccellenza, Marco, dici me mi è da ridere perché ogni volta... Vabbè, faccio un po' il serio, aspetta. Abbiamo l'uomo che ha creato il Versus. L'uomo che ha creato i video porno su YouTube. Sì, solo per lui, perché se li vede solo lui. L'uomo che con il suo lancialan ha creato i video dove dimostrava la sua superiorità nel Versus. 140.000 a 0. Un uomo che è diventato leggenda. Non per Resident Evil 5, come tutti credono, ma perché gioca con la ragazza a casa, quando si potrebbe fare una sana scopata, secondo me. Comunque, detto questo, il grande Alex Dark 09, Dio canno. Non è tutta una propaganda. Potremmo partire. Cesare, attiva il motorino. Forza? Io sono pronto. Ecco, e l'altri due però no. Sì, volevo fumarmi una sigaretta. Ecco, ecco, e anche l'uomo che per fumarsi una sigaretta ci mette 60 anni. Infatti, tra 100 anni staremo ancora qua. Chiunque vedrà il canale, vedrà anche le S più fatte da Giovanni da solo. Faccio un po' di marchetta dal Mac. E chiederà, sì, propaganda, e chiederà, ma perché sta gente non si ammazza col gas nervino? Per tutti coloro, invece, che amano il divertimento, godete questa partita. Voglio salutare due persone in particolare, che so che vedrà nel video. Chris Refield 88, che il nome è tutta una propaganda, anche quello. E anche Black Mamba, che è romano come a me, ma non ci capisce un cazzo infatto di femmine. Detto questo, ho detto tutto, possiamo anche partire adesso. Alex, vedi, attiva il motorino, anzi, voglio ringraziare pure altre persone. Non so chi, scusa, però, però, mi devi di chi, dei contatti mia, vede... Vabbè, Cesare non ho sfigato che lo vede, pure Alex, se fa le pippe pure con i video con il suo. Poi, chi è che lo vede? Arcella, ecco. Mr. Wesker, Mr. Wesker, ci abbiamo anche Mr. Spry, poi chi è che lo segue un altro ringraziamento caloroso? Ah, Walter, ecco, bravo, voglio salutare lo sfigato di Christian, Walter e Sullivan, un caloroso abbraccio dal Mac, che gli voglio bene, ma non ho capito che cazzo ogni volta mi scrive un messaggio, ho visto il video, ho mai fatto tagliare. Poi, quando lo senti, lo senti con l'auricolare, pare, pare un don, chi ho cani, Dio santo, scusa, non devo bestemmiare, pare un don, sì, senti come entra, ciao Gianca, ciao Gianca, ma che cazzo, ti è morto un gatto, ti è morto un prete, ciao, oh, mi sono scaricato l'auricolare, poi ti invita nelle chat private, nelle chat vocali di testo, e scrive, ha, 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 Scrive solo quello, ormai si è imparato a scrivere solo, ha, 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 ecco, noi abbiamo tanti sfigati in queste soluzioni, hai finito Alex di fumare una sigaretta, te ne devo venire accendo un'altra. Comunque questa missione è a livello professionista, per chi non lo sapesse, e abbiamo tre grandi giocatori, che giocano con me, ma anche tre grandi amici, ma soprattutto tre grandi persone, dietro di questo c'è anche una quarta, a cui voglio tutti bene, e spero che, ho letto un commento nei video dove dicevo bestemmi, che non, comunque questo video è fatto una serata tra amici, naturalmente, è per divertirsi, è per non pensare alle cose brutte della vita, chi vuole, chi vuole capire, detto questo, ha capito già tutto dalla vita, perché veramente stiamo tra amici, e quindi se vogliamo fare i coglioni, lo facciamo, se no non siamo coglioni noi, penso che essere divertenti poi alla fine per vedere un video di 20 minuti in cui uno si fa due risate. Detto questo, vi auguro buona visione e buon intrattenimento, e gustatevi il video, desti grandi quattro soggetti del Versus, anzi tre soggetti, anzi due soggetti del Versus, perché Cesare faceva il record a cinque secondi, sì col trucco però, eh? Alex, eh? Ti sei sbagliato? Ah sì, no, perché ogni tanto dovete sapere che Alex è un pochetto rincoglionito, amore, comunque io sul commento vorrei scrivere con la grande partecipazione del generale Nero, Alex Nero, perché comunque sia, che partecipa a lui a un video, tra parentesi, noi giochiamo in quattro, ma siamo in sei, ma pure più di sei, perché c'è anche Veronica, ma soprattutto dietro le quinte, un pochetto come capoccia, vuole fare il capo, ma alla fine è persa pure lei, e poi abbiamo la ragazza di Alex, che un po' non ho ancora capito se ci dorme assieme, se vive lì, se scopà lì, non lo so, ogni tanto la senti parlare, e soprattutto la ringrazio perché è una grande donna a sopportare un cristiano del genere, io guardando di cappello, guarda, veramente, è un pochetto come avevo un dito in culo ogni giorno. Il tempo del caricamento, il tempo del caricamento, da notare, è stra lungo. No, ancora, sono suggerimenti qui, il pano, sì. Ah, ok. No, è un pochetto. Lì, 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 lì. Sì, ti proteggo. Lì, 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 lì. B sacco a biciclight guverone, daily ma scopa può Adolo ci rimanga, è un pochetto, dicamo qui. Prima finiva. Chissà, lavorare a sociali, sono morto da un dito io No, ma adesso è al posto, come imparate? No, cazzo, stavo riparando una finestra. No, ma adesso è tutto il loro. che staranno seguendo questo video il mech è caduto perché nella fase di caricamento si è bloccato a me mi si è bloccato dovuto spingere ps e uscire poi dopo mi ha fatto bb bb sai com'è che fa c'è quando esci e mette quel suono la playstation e poi te sei riavvia però sto ancora in posto dei caricamenti ora ragazzi state sempre registrata vero è vero ma affanculo e cura me so appena imboccato fermale perché l'altri due non li curo ma vabbè va questi sono i misteri della vita ma non ho capito ve l'ha fatto mai che se blocca sulla fase di caricamento col tasto ps e che devi uscire poi fabbi bibili reale te l'ha mai fatto sto gioco sì sì anche un sacco di volte salvate il superstite potrebbe darci delle informazioni non lasciate che il soldato muoia raga io devo fare una chiamata però posso uscire ci siamo dopo raga mi dispiace vabbè io la cosa ve l'ho fatta l'ho fatta la presentazione vabbè ci sentiamo dopo raga magari faccio subito si è morto salvate il superstite potrebbe darci delle informazioni non lasciate che il soldato muoia non lasciate che il soldato muoia non lasciate che il soldato muoia non muoia c'è una sera bomba a mano in teoria siamo ancora qui ecco SIX disinnescate le bombe che i soldati stanno piazzando al municipio sparate a vista pensa prima di sparare soldati eh qua io ho zero colpi ragazzi non c'è il municione posso fare un cazzo non c'è il municione fammi dare uno eccolo 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 ma adesso non è tanto siamo tutti belli tra insieme adesso qua c'è SIX di nuovo con i soldati dell'Umbrella sono loro che piazzano le botte fermateli non muovetevi non senza copertura lì c'è un'arma di precisione comunque guarda io mi metto di qua se qualcuno mi pare il culo un secondo non lo pensi cecchini un attimo sto sparando col tibolfo in testa ma non è troppo serve copertura uno è andato eh vabbè non sconto le tappite non ho tanto non è per tanto il pittura come un sottile non è per tanto il pittura come un sottile non è quello di andare non è un malcomandolo di fronte a porto aspettate che c'è ancora tanta gente sotto con prudenza chi ti altro non si sparano più dall'alto no basta adesso mi metto un attimo super soldato entro dentro vedo quante sono butto anche le bombe aspettate attenzione granata innescata attenzione arriva attenzione via via ho buttato le bombe attenzione uccidete attenzione entrate al municipio e cercate l'archivio trovate nei piani urbanistici qualunque cosa sembri un impianto dell'ombrella disinnescate tutte le bombe che trovate qui arrivo eccomi qui ma guardati qua c'era un dischetto dati avete preso? qua dove? qua dove? ah giusto c'è questo c'era una cacciata ecco qua abbiamo ospiti eh qua abbiamo ospiti eh ma guarda che bastardo che non c'è aspettate un secondo facciamo la prima un giro quello qui che cazzo è stato a spararmi? prendete posizione wow perciò o non che perciò perciò il Allora, qui c'è un cazzo di... No, sei cavolo, un'emozione. Adesso giù c'è la cassa quella grande, quella grande. C'è una bomba, disinnescatela.